e buonasera signori e signori eccoci qua con questa fuga generale fantastico i tuoi amici ti vogliono proprio qui esatto dai perché sono in incognita in realtà ma noi stasera festeggiamo te giusto? penso di sì andiamo a conoscerti meglio ciao come ti chiami? massimiliano di dove sei? brescia allora cosa fai nella vita? puoi dirmi quello che vuoi a me dall'alergia mi hanno detto ingegnere aerospaziale ci piace ci piace e raccontaci un po' di te qual è il tuo colore preferito? rosso piatto? piatto preferito pasta asciutta pasta asciutta rosso quindi la pasta al pomodoro per te è uno spettacolo? sì racconto fantastico ci piace perché ti piace anche il rosso così location più bella del mondo che hai mai visto che ti è rimasto qua? ti è rimasto nel heart scusa la fiatella ho mangiato aglio e olio tranquillo le caima l'egitto? no nave la crociera ci piace con chi hai viaggiato? con la famiglia ci piace giustamente non facciamo politica occulta diciamo solo così si è schiantata da qualche parte? no no fortunatamente è andata tornata bene allora raccontaci di più cosa festeggi? festeggio il mio compleanno? tagli auguri quanti sono? 42 portati bene devo ammettere non l'avrei mai detto se non me lo dicevi tu io non lo sapevo grazie e ci piace un sacco allora cosa vuoi fare? la prima cosa che vuoi fare da persona 42enne che ha raggiunto l'età adulta? divertirmi un sacco ancora ci piace un sacco molto bene molto bene e anche grazie a voi e noi allora siamo qua per divertirci assieme a te e divertirci con te di te per te e detti tutto ciò ci rivediamo più avanti nella serata ci prometti che ci fai anche un video youtube? non lo so vedremo vediamo come saremo va bene dai ci piace ok buona serata massimo intanto ciò ciao